Sì, vedremo, rapatissimo, avvia il cartello dei 15 secondi allo start 15 secondi per andare 5 secondi, avvia 5 secondi, avvia la tusa all'interno, non può spostare si maschile Grazie a tutti. 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 Buon consiglio di pedale perché ha una doppia trasmissione, una legata al motore elettrico, un'altra legata... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.